40 studenti di 5 scuole medi superiori del Piemonte hanno partecipato alla prima delle quattro giornate formative di ragazzi in aula, progetto di educazione civica del consiglio regionale che permette agli studenti di ideare, scrivere, discutere e votare il testo di una legge regionale. I ragazzi simuleranno una seduta di commissione per approfondire le tecniche legislative e arrivare al testo definitivo che verrà discusso in aula il 5 dicembre.